Ciao a tutti! Essere eteroflessibili, che cosa significa? Allora, se si è eteroflessibili è chiaro che si è eterosessuali, e quindi non si è gay e non si è bisessuali, si è etero. Ma poi c'è flessibili, che significa che si è gay qualche volta? Che ci sono dei periodi in cui si è gay o bisessuali, quindi che si fa tutto? No! Se si è eteroflessibili non si è mai gay, non si è mai bisessuali, e quindi possiamo dire che questa definizione non ci deve essere un contatto con un uomo, non ci può essere a touch, non si può toccare, non ci può essere la toccata con un uomo, non ci può essere il contatto diretto con un uomo, se no si entra nella bisessualità. Non ci dovrebbe essere nemmeno un desiderio di toccare, di venire vicino. Se non si è eteroflessibili, però dobbiamo capire perché allora non eterosessuali e basta, ma eteroflessibili. Per chi è eteroflessibile accetta che nella propria eterosessualità ci siano altri uomini. Quindi c'è la condivisione, per esempio, della propria moglie, della propria partner, della propria fidanzata con altri uomini, che si avvicinano di molto al proprio corpo quando l'atto viene compiuto. E quindi ecco perché eteroflessibili si è flessibile appunto di accettare delle pratiche nuove, di esperimentare, di venire molto vicino all'attività sessuale compiuta da un altro uomo, ma non c'è mai contatto e normalmente non ci dovrebbe essere desiderio. Perché se c'era il desiderio è chiaro che poi si andava dall'altra parte, perché tanto queste attività con consenso tra adulti non sono vietate e quindi uno perché non andrebbe direttamente verso la bisessualità o verso l'omosessualità. Quindi non ci sarà il desiderio, è chiaro, e non c'è mai contatto. Ecco che cos'è l'eteroflessibilità, che è un nuovo concetto, qui 2023, che sta aumentando tantissimo, soprattutto in Inghilterra. E ci sono tanti tanti uomini che si dichiarano adesso essere non gay, non eteroflessibili, ecco. Come sempre grazie per l'attenzione.